La moda italiana in Svezia. La presentazione dei modelli primavera e estate di creazione italiana dinanzi ai grandi sarti svedesi e ad un elettissimo pubblico della capitale svedese ospiti della rappresentanza diplomatica italiana. La presentazione dei modelli per passeggio avviene nel giardino. La presentazione dei modelli. La presentazione dei modelli. La presentazione dei modelli.